Vesta, alex, alex. Buenas tardes, alex, alex, grace. It's a great pleasure, great hope for me to be here, to be on this stage, and first of all I'd like to say thank you to Rav Kuston, to Gabir Elmanis and to hold the football team worldwide per tutto ciò che hai fatto per sviluppare Bich Stoker. Grazie mille. E, ovviamente, capisco che non è il mio personale prezzo, è un prezzo per tutta la famiglia di Russia Bich Stoker. E mi ricordo la prima edizione della Bich Stoker World Cup nel Rio de Janeiro nel 2005. E io ero solo un campionista, e io venivo a Rio de Janeiro per vedere cosa è Bich Stoker, per ottenere la scuola del gioco. E quando ho vedo questo evento, mi sono diventato, ma è stato la vita, a prima volta. E questa volta ho proprio soggetto di provare Bich Stoker in Russia, per organizzare nazionali competizioni, per organizzare nazionali team. e mi ricordo che la Bich Stoker in Russia la Bich Stoker della Bich Stoker va partecipare in la Bich Stoker World Cup. E, due anni dopo, riuscamo molti titoli. Ci sono diventato Bich Stoker World Cup due volte. E i nostri sogni sono diventati. E ora voglio ringrazi a miei amici, con il Serege e Noche. E io credo che noi stiamo dicendo. I insieme, 13 anni fa, abbiamo stabilito la Bich Stoker Federazione e abbiamo iniziato a lavorare con il nostro amico, con il nostro amico. E abbiamo creato un buon campionismo, un buon campionismo. E i nostri amici sono riuscini e abbiamo creato un'invitazione per la Bich Stoker per la Bich Stoker e Nicola Pissarif è stato il direttore di Bich Stoker e Serege Enoche è stato il vicepresidente. Mi sono iniziato a lavorare con tutti i competizioni. Mi sono iniziato a lavorare con tutti i competizioni. e iniziato a lavorare con tutti i competizioni. E iniziato a lavorare con tutti i competizioni. E io sono iniziato a posizione di General Secretario. E ora ho capito che Bich Stoker mi aiutò nel mio vitae. E io sempre stavo supporto Bich Stoker. e ne overrò parla e ci sono iniziato a lavorare conoscere 25 nazionali in Russian Fungle. E per tutte le competizioni. Ma anche la Bich Stoker è un' particolare parto di meu vitae. Con sangue. E io sempre supporto Bich Stoker. E io sono sicuro che e è la prima parte. credo nel futuro di ogni storia e facciamo lo insieme. Grazie mille.